Dopo il cessato allarme rosso alla Stazione Spaziale Internazionale che lunedì rischiava di dover essere evacuata per i detriti diffusi da un razzo russo antisatellite che ha distrutto il vecchio satellite Cosmos 1408, si alza un'ondata di indignazione contro Mosca. E' entrato in campo anche il Dipartimento di Stato. Il comportamento pericoloso e irresponsabile della Russia mette a repentaglio la sostenibilità a lungo termine dello spazio e dimostra chiaramente che le affermazioni russe nel volersi opporre all'armamento dello spazio sono false. Gli Stati Uniti lavoreranno con i migliori alleati e partner per rispondere all'atto irresponsabile della Russia, attuonato il portavoce del Dipartimento di Stato. La situazione è stata considerata pericolosa dai controlli missione che avevano fatto entrare gli astronauti e i cosmonauti nelle navicelle Crew Dragon e Soyuz. Si è trattato di una situazione di emergenza calcolata, sappiamo cosa fare in questo momento e se succede qualcosa anche il Mission Control Center viene messo al corrente. Ha detto il cosmonauta russo Alexander Lazuskin, nella riunione che è stata convocata a Mosca fra una delegazione della NASA e Roscosmos, si deve affrontare adesso la questione dei detriti attorno alla stazione.